In questo periodo di tempo che ci separerà dal 1 luglio 2017 deve essere fatta chiarezza su tutte quelle che saranno le nuove normative o tutte le cose da fare nuove rispetto all'introduzione della Bolkestein, per questo abbiamo deciso di fare questo infopoint per rispondere a tutti quelli che sono i dubbi che gli ambulanti possono avere rispetto ai posteggi piuttosto che alle concessioni e quant'altro per fare chiarezza. È un progetto pilota per cui è un progetto sperimentale anche a livello nazionale. La Confcommercio di Arezzo ha adeato un nuovo servizio di consulenza e informazione sulla Bolkestein rivolto ai venditori ambulanti con la collaborazione della Federazione Italiana Venditori su Area Pubblica. Il servizio, un infopoint telematico, rappresenta un progetto pilota a livello nazionale che permetterà a tutti gli operatori di arrivare preparati all'appuntamento del luglio 2017 quando la direttiva europea sulle liberalizzazioni, finora applicata solo in parte, entrerà a pieno regime in Italia. Sostanzialmente ci sono alcune novità. L'autorizzazione e la concessione di posteggio non sarà più a durata e limitata ma avrà una durata specifica nel tempo. Speriamo che sia i 12 anni secondo quello che stabilisce la Regione. Detto questo, cambiano una serie di criteri per accedere. Quindi il criterio più importante sarà quello della maggiore professionalità che è composta dall'anzianità di impresa e dall'anzianità di posteggio scelte per cui nessuno perderà il posteggio sul cui lavora. L'ASCOM di Arezzo ha pensato di fare questa iniziativa che io qui come segretario nazionale già gli ho detto che la ripeteremo su tutti su chi sarà disponibile a fare questo esperimento che ha la duplice funzione sia di assistere gli ambulanti ma sia di interfacciarsi con i comuni perché anche i comuni avranno qualche problema su questo lato. Quindi voglio dire attraverso questo Infoboint noi saremo in grado di dare assistenza alle nostre imprese e consulenza verso i comuni.